BASH non è l'unica shell disponibile per Linux, infatti esistono decine di shell alternative e le due shell alternative più utilizzate sono FISH e ZSH. La differenza tra FISH e ZSH è un po' come quella che c'è tra GNOME e KDE. FISH è poco configurabile, ha delle impostazioni di default sane e se sei contento di come si comporta out of the box come si suol dire, allora sei a cavallo. Mentre invece ZSH è estremamente configurabile e se hai voglia di perdarci tempo dietro puoi adattarla e personalizzarla come più ti piace. In questo video vediamo la shell FISH, cosa ha di diverso da BASH e perché vorresti usarla a suo posto. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Andiamo ad installare FISH con il nostro Package Manager come di consueto. A questo punto per cambiare la shell usiamo il comando CHSH dandogli l'opzione "-s per indicare la shell che vogliamo utilizzare", seguita dal percorso completo della shell, quindi in questo caso userbinfish. Per rendere operative le modifiche ora mi debbo sloggare e rilogare. Quello che salta subito all'occhio è che ora abbiamo un prompt differente, con il username ed il path colorati ed il simbolo maggiore al posto del dollaro. Il prompt di FISH ha altre due caratteristiche interessanti che vedremo a breve. Iniziamo a scrivere un comando e vediamo subito che quello che sto scrivendo è colorato di rosso e mi viene suggerito come completare la linea in grigio. Abbiamo quindi a nostra disposizione la sintassi colorata, dove gli errori, per esempio, di un comando inesistente sono segnati in rosso, mentre i comandi normali sono in blu. I suggerimenti invece vengono presi dalla history dei comandi già digitati. A proposito di history, ti ricordi come in basso se premi ctrl r e fai una ricerca all'interno della history? Bene, in FISH questa funzionalità è disponibile in maniera molto più semplice. Come vedi ho digitato le lettere EC. A questo punto, se premo freccia su o freccia giù, vado a pescare dalla history i comandi che contengono le lettere EC, non necessariamente inizio comando, come puoi vedere. Ma torniamo ai suggerimenti. Se ti ricordi, in uno dei primi video della serie Impariamo la linea di comando, avevo introdotto il comando EC con la tradizionale scritta salve mondo. Come puoi vedere, ho iniziato a scrivere parte del comando e FISH mi sta suggerendo salve mondo. Per accettare il suggerimento di FISH, basta premere la freccia destra. A volte posso volare non accettare tutte le linee suggerite da FISH, ma solo la parola successiva. Andiamo per esempio ad installare il pacchetto GIT. Inizio a scrivere e vedi che ho suggerita la linea giusta quasi fino alla fine, ma al posto di FISH voglio installare GIT. Quindi, per accettare una sola parola del suggerimento di FISH, basta premere Alt freccia destra e continuo a premere Alt freccia destra fino a dove mi serve. A questo punto mi basta scrivere GIT ed il gioco è fatto. Torniamo un attimo a parlare del prompt di FISH, andando ad eseguire un comando che non va a buon fine. Per esempio, se vado a cercare una stringa inesistente in un file. Nota come ora ho il numero 1 in rosso tra parentesi quadre. Già, una cosa che mi sono dimenticato di dire nella serie Impariamo la linea di comando. Cosa significa che un comando va a buon fine o non va a buon fine? Quando tu esegui un comando, finita l'esecuzione, il comando ritorna un valore numerico. Se il valore è 0, allora significa che il comando è andato a buon fine. Se il valore è diverso da 0, allora significa che il comando non è andato a buon fine. E a seconda del comando, il valore numerico può indicare il motivo per cui non è andato a buon fine. Quindi questo numero 1 in rosso tra parentesi quadre, significa che grep è ritornato con valore 1. Questo valore, molte shell, tra cui bash, lo mettono a disposizione nella variabile $.interrogativo. Mentre invece, fish, lo rende disponibile nella variabile $.status. Rimaniamo ancora a parlare di prompt. E, se sei un programmatore, sicuramente hai a che fare con git. Tra l'altro, se vuoi che io faccia una serie di tutorial su git, basta che me lo chiedi nei commenti. Andiamo quindi a crearci un repository nuovo, chiamandolo per esempio ProvaGit. Una volta inizializzato il repository, vedi che nel prompt, tra parentesi, ho il nome del branch in cui mi trovo attualmente. In questo caso, master. Se non hai la minima idea di cosa significa quello che ho appena detto, non ti preoccupare. Git è uno strumento per programmatori. E, se non hai intenzione di scrivere o mantenere codice, allora non te ne fai nulla. Una cosa a cui bisogna fare attenzione è che fish non è una shell compatibile POSIX. E questo significa, in soldoni, che alcune cose che in bash o zsh si fanno in un modo, in fish si fanno in modo diverso. Lo abbiamo appena visto con la variabile dollaro status, che nell'altra shell si chiama dollaro punto interrogativo. Quindi, differenze con quanto abbiamo imparato con bash. Iniziamo con la buona notizia. Le differenze rispetto a bash ci sono, ma sono poche. Tutti i concetti che abbiamo visto nella serie Impariamo la linea di comando sono validi anche per fish. Globe, Brace Expansion, Redirezioni e Pipe funzionano esattamente come abbiamo visto nei video precedenti. C'è una piccola differenza su come si settano le variabili d'ambiente. Avevamo visto che in bash, per settare una variabile d'ambiente, utilizzavi il comando export. In fish, invece, per settare variabili, uso il comando set. Per indicare una variabile d'ambiente, uso l'opzione meno x, che sta per export. Nome della variabile, per esempio editor, seguito direttamente dal valore, per esempio vim. Nota che non ho utilizzato il simbolo uguale tra il nome della variabile ed il suo valore. A parte questo, le variabili si usano nella stessa identica maniera che abbiamo visto con bash, con il dollaro prima del nome, e la differenza tra singoli e doppi apici vale anche per fish. Alcune variabili hanno un nome differente in fish. Avevamo visto dollaro punto interrogativo, per esempio. E voglio anche menzionare dollaro chiocciola, che avevamo visto nel video sullo shell scripting, che in fish si chiama dollaro argv. Ultima cosa per quanto riguarda le variabili. Path in fish è un po' particolare. Non voglio entrare nei dettagli, ma ti lascio un link in descrizione per approfondimenti sul perché. Passiamo alla command substitution. A partire dalla versione 3.4.0 di fish, la command substitution si usa nello stesso identico modo che avevamo visto con bash. Sfortunatamente, però, sto utilizzando una versione più vecchia di fish. Quindi, la command substitution, invece che essere con dollaro ed il comando tra parentesi, è fatta semplicemente col comando tra parentesi senza dollaro. Ti faccio notare che il comando tra parentesi senza dollaro funziona anche con la versione 3.4.0 di fish. Solo che a partire dalla versione 3.4.0 è possibile anche mettere il simbolo dollaro prima della parentesi aperta. Tutto qui. Altra differenza rispetto a bash sono i vari costrutti di programmazione, che in fish sono semplificati. Prendiamo, per esempio, il costrutto for. Andiamo a convertire tutte le jpeg nella directory corrente in png. Quindi andiamo a scrivere for, nome della variabile, per esempio f, parola in, lista di stringhe, in questo caso asterisco.jpg, per tutte le immagini jpeg. E fin qui tutto uguale a bash. Ma a questo punto il punto e virgola do non ci va, basta semplicemente andare a capo. A questo punto, come corpo del ciclo for, posso usare sempre il comando convert di MageMagic, il nome del file è la nostra variabile dollaro f, e qui, visto che la shellfish è intelligente, non ho bisogno di mettere il nome della variabile tra doppie virgolette, tanto funziona anche se il nome del file contiene spazi. Continuo con la nostra command substitution, ricordandoci che essendo la shellfish, non devo mettere il carattere dollaro prima della parentesi aperta. Per concludere ed eseguire il ciclo for, uso la parola end al posto di done. E vedi che ha funzionato tutto. Come puoi vedere, la shellfish presenta qualche comodità in più rispetto a bash. Personalmente mi ci trovo benissimo, e la cosa che io trovo molto bella è che tutte queste belle funzionalità sono già disponibili sin da subito, senza bisogno di configurare niente. Il fatto che non sia una shell compatibile POSIX, però, potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Se vuoi una shell compatibile POSIX, che abbia tutte le funzionalità belle che abbiamo visto con Fish, come suggerimenti per i comandi o la sentassi colorata, allora ti consiglio di dare un'occhiata a ZSH. Occhio però, perché ZSH ha sì tutte queste belle funzionalità, però vanno attivate a manina, andando a modificare file di configurazione. E a quanto ne so, ZSH ha veramente tantissime opzioni di configurazione, il che potrebbe diventare troppo complicato per valerne la pena. Infine, sebbene Fish e ZSH siano le due scelle alternative a bash più utilizzate, ne esistono diverse altre che potrebbero interessarti. Oppure, se ti trovi bene con bash, non c'è nessuna ragione per la quale tu non possa continuare a usare bash tranquillamente. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! La differenza tra Fish e ZSH è un po' come quella da che... Uso il comando SET per indicare che... In Fish, invece, per sottab... Wow. Grazie.